Ciao a tutti ragazzi, spero questo video sarà di vostro gradimento Volevo dirvi che sto cercando di migliorare video per video Chi magari sta seguendo i miei video dall'inizio potrà notare qualche miglioramento nella qualità E volevo ringraziare tutti per il supporto che mi date perché noto qualche mi piace Quindi mi fate capire che qualcuno è interessato E niente, grazie per il supporto davvero L'ultima cosa voglio dirvi di passare sul canale di Davide Ferrara Che lui mi ha sponsorizzato e lo ringrazio tanto Fa video sul Clash Royale Se siete interessati passate al suo canale Buona visione Oh cazzo Oh cazzo, oh cazzo c'ho un cuore Mori, mori, basta Mori Questa faccia di cuore Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Qui è Tony Halo E oggi siamo su Skyway Island E sono qui a continuare questa serie perché Cioè vedo che abbiamo fatto qualche progresso ma niente di che Quindi oggi voglio fare progressi Iniziamo subito Allora, come vedete abbiamo Due stringhe e un po' di roba perché mi sono messo un po' a farmare qui dentro E ho chiuso In tal modo così Spona un po' di gente Ho raccolto un po' di legna Come vedete qui Beh, siamo un po' riforniti Ora passiamo un po' di queste cose Allora Questo non serve, questo non serve Ho corto il ferro Non so se ho fatto bene Però io mi farei un secchio Perché mi chiede di cucinare un pesce Devo pescare un pesce Quindi per farlo Non è che ho bisogno di acqua infinita Però Magari una fonte di acqua infinita Potrebbe fare come Quindi Facciamoci un secchio Vai Tanto c'è un altro lingotto di ferro Che mi ha dato Quella specie di Mob Spawner Quindi nel caso Servirà questo ferro Cioè andrò lì E ammazzalo Fin quando mi danno del ferro Questa me la prendo Grazie Aspetta, aspetta Ho visto che qui non spona ma nessuno Ogni tanto Fare una ripulita Farebbe C'è questa gente normale C'è nessuno Ah, ecco qua Un po' di gente Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo C'ho un cuore C'ho un cuore Sali c'è il creeper Sali c'è il creeper Vai via Vai via Non mi fa respodere lo spoon Madonna Cosa ci ha dato Un kez Ah, farina rossa E basta con sta farina Quanta cazzo di farina Di vedere se ho delle stringhe Se non sbaglio Aspetto Qui ne ho due Ah, perfetto Abbiamo le nostre tre stringhe Ci facciamo Anche i nostri pezzettini Di legno Altri stick E dai Ci facciamo questa bella canna da pesca Sapete che non ricordo Come si fa la canna da pesca Daga, non mi ricordo Come si fa la canna da pesca Ok Sono andato a vedere su google Scusa l'ignoranza Ma purtroppo io ho sempre giocato Su xbox E su console In minecraft E sul pc Io ho iniziato da Da mesi Diciamo Vabbè Abbiamo la nostra canna da pesca Ora direi Prima cosa di recuperare un po' di salute Mangiamoci un po' di carotte fresh Cazzo me ne prega Beh Ora mi metterò qui Quando riuscirò a pescare qualcosa Ci vediamo tra un po' Aspetta, no no Prima Facciamoci la nostra fonte di acqua infinita Ora abbiamo la nostra fonte di acqua infinita Il che è una cosa buona Perché per prima cosa Cominciare a piazzare un po' di secchi d'acqua Nei lati Così evitiamo Di morire inutilmente Aspetta un attimo Qui sono dentro degli scheletri Che secondo me è qui sotto Oh 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 Stavo per cadere per colpa del lag Nooo Perché mi laghi ora Sicuramente Qui sotto Dovebbe esserci un po' di gente E io Ho perso Oh cazzo Un po' Io non direi un po' Io non direi un po' Sali Oh Mori 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 Basta Mori E mori Oh Ok Andate a morire Ammazza Tutti quanti Ok Beh un po' di bulmia Fa sempre Bene Anzi Mettiamo Un po' di grano A crescere Ok Beh Siamo già perdendo troppo tempo Quindi iniziamo subito A lavorare Come si deve Ci facciamo prima un bel panino Che ho tanta fame Ce lo mangiamo Io ora mi metto qui Con la mia bella canata pesca Sperando che Riesca a pescare qualcosa Ci vediamo tra un po' Ok Abbiamo preso un po' di roba Mi sono messo a pescare un po' Un pesce palla Tre merzluzzi Mi ha dato una ciotola Ed estivaletti Che li prendo molto volentieri Ora Cuciniamo questo pesce E vediamo Che succede Cucinamolo tutto Pesce palla Mi sembra che è velenoso Quindi Io direi Di andare a mandarlo a fanculo Posiamo queste cose Le stringhe Conserviamole Perché appena abbiamo un po' di stringa Facciamo la lana E ci facciamo anche il letto Perché mi sono rotto le palle Di aspettare sempre che si fa giorno Ok Il pesce l'ho cucinato Ora Ok Island Ok Apparsa E' apparsa una nuova isola Ora E' notte Ma non io ce ne frega Amiamo il pericolo Quindi Andiamo subito Andiamo Vediamo cosa Ci riserva quest'isola Vedo uno spoon Non so di cosa Di scheletri Scheletri? Ma cos'è? Scheletri strani Direi Io ho questo archetto Che mi ha droppato Il tonichetto Quindi Raga Non so se avete visto Cosa c'è scritto La prossima quest Cosa ho detto prima? Sul fatto del ferro Dico io Perché l'hai usato? Perché? Guarda devo aspettare Che mi droppano del ferro Ti rendi conto? Ah Questi mi droppano del ferro Quindi lasciamolo così Questo spawn Che serve? Mettiamoci la Oh Aspetta Muori Muori Mi fa il piacere di morire Oh Oh Anfame Però ho paura Che non mi diano sempre Del ferro Quindi bisogna Aspettare Però vedo che Molto velocemente Funziona questo spawn Ora direi Di chiudere un po' Tanto siamo vicini Penso che dovrebbe Sponare lo stesso qualcuno Qui è spawnata Un po' di gente Vediamo chi c'è Buongiorno E' permesso Oh Una bella pala Me la daresti? Dai dammela Dammi questa bella pala Devo farmi una spada Raga Questo un fame Non mi ha dato la pala Affanculo Vabbè Ora Io sento anche dei ragni O mi drogo Oh Sento dei ragni I ragni li uccidiamo Perché Danno una stringa La stringa è buona Quindi Facciamoci un altro piccone Di legno No Non posso farmi Nannami la cobblestone Non abbiamo la cobblestone Però abbiamo già un piccone Qui Perfetto Ora andiamo Prima cosa mi servirebbe Un po' di cobblestone Per chi Mi farebbe comodo Un po' di lava Per fare un po' di Ok Oh Tu non esplodere Non esplodere Ti prego Ti prego Non esplodere Muori 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 subito Ok Muori anche tu Oh Oh Anfame Anfamone Ok Bene Possiamo farci Il nostro primo cubetto Di lana Perfetto Ragazzi Perfetto Le facciamo Il letto E la finiamo Con questi mob Notturni Che rompono le palle Perché gli spawn Non funzionano Vedete che Posso stare qui Aspettare Fin quando Spona qualcuno Intanto qui Ah no Ma questo è il ferro Che io già avevo Come faccio adesso A prendere il ferro Se già l'ho usato Quello Mi servono due pezzettini Di ferro Come devo fare Che palle Che palle Vabbè raga Facciamo una cosa Ci vediamo Tra due minuti Io Cerco di far sponare Un po' di gente Tra qui Qui sotto Lì è un po' difficile Perché è un po' più lontano Almeno questi due Lati qua Mi metto un po' lì Così spono La gente Che sono vicino E nel mentre Spono qualcuno qui E spero qualcuno anche lì Ci vediamo tra un po' Beh raga Allora Appena ho ucciso Un paio di questi E niente Sono riuscito a prendere Soltanto un altro Lingotto di ferro E mi sono rotto Raga Cioè ho ucciso Un sacco di mob E mi scoccio Cioè non è che mi scoccio Ma Non è possibile Passare le ore Per un lingotto di ferro E altro Quindi io Mi sono fatto Un paio di slab di questi Ho scavato Un po' qui sotto Per vedere se c'era qualcosa Vedete Mi sono messo a scavare Fin giù Non c'è niente Con questi blocchi Mi sono fatto Degli slab In modo da coprire qui Perché penso Fin quando C'è luce qua dentro Non penso che Esponerà qualcuno Quindi io Direi Di chiudere un po' qui Ora già così Dovrebbe bastare Dai Non entra Molta luce Molta luce Come vedete Ho già esplorato qualcuno Che morirà Questa faccia Di culo Si chiama Cold skeleton Quindi penso che mi dia Della cold Del carbone Ho capito Che le torce servono Ma che cazzo Come mi devi fare Io del carbone Dai Datemi del ferro Perché ho usato Quel ferro Perché sei così Stupido Tony Perché Il risultato Coluce Oh Mi ha fatto venire Un colpo Ha stato un fiamone No Pensavo Che era un blocco Di ferro Non lo so Come devo fare Per avere questo ferro Davvero non lo so Chiudiamo Qui Che magari Sponerà qualcuno Che mi dia Del ferro Vorrei Sperare Che qui Si è sponato Qualche zombie Che mi dia Del ferro Non è qui Qui Se penso Che sia molto difficile Cioè ci sono Oh No 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 Errore 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 Muori Muori Ok Questi creeper Di merda Vabbè ragazzi Purtroppo Dobbiamo Chiudere Questo episodio Perché ora Mi metterò Un po Ofk Oppure Mi metterò Un po Qui A cazzeggiare Mentre sponeranno Qualche zombie Bastardo Da ammazzare Sperando che Ci tede il ferro Per Caftarci Questo Piccone Di ferro E niente Ora Registrerò anche Sky Megalite E qualche Minigioco Se ci riesco Così da portarvi Sempre più La roba sul canale Mi scuso se Tipo Ieri L'altro ieri Qualche giorno Ancora non è uscito Niente Ma purtroppo Lavoro a fine settimana Già l'ho spiegato Per in settimana Di impegno Quindi Oggi sto registrando Un paio di episodi Domani altrettanto Quindi questa settimana Sarà abbastanza piena Quindi visitate spesso Il mio canale Iscrivetevi Se ancora non l'avete fatto Lasciate un like Commentate Qualsiasi commento Negativo Positivo Io accetto tutto Perché sono sempre Dei consigli Beh Questo è tutto Vi ringrazio Per la visione Un bacione Qui Tonialo Ciao a tutti